Parlare di normalità a proposito di un uomo eccezionale e unico come Silvio Berlusconi sembra strano, eppure l'ho sentito anche da qualcuno prima di me. La sua capacità unica di entrare in sintonia con le persone comuni, di parlare un linguaggio che tutti potessero capire, è stata una delle sue grandi forze. Una forza che non a caso certa sinistra, intrisa di ideologia, non ha mai capito, ha sempre dispezzato e non ha mai compreso. Pur avendo raggiunto successo ricchezza e poteri globali, Berlusconi non ha mai dimenticato le sue origini, non ha mai presso il contatto con la realtà, con i ceti popolari, con la casalinga e con l'operaio, che qualcuno invece ha perso di vista. Negli ultimi anni Silvio li amava veramente, non li analizzava come realtà da sondaggio, li sentiva.